Il turno di campionato che si apre oggi in Serie C vede tra le gare più importanti sicuramente quelle che coinvolgono le due compagini della provincia di Foggia. Sarà una sfida Puglia-Sicilia con il Catania che affronterà domani alle 15 i Satanelli allo Zaccheria ed il Trapani che ospiterà contemporaneamente al provinciale il Cerignola. Scorrendo l'elenco delle partite di questo campionato troviamo anche un interessante Sorrento-Benevento ed il derby Lucano-Picerno-Potenza. La sensazione è che da adesso alle prossime settimane il torneo possa prevedere una corsa a due tra i Sanniti e gli Etnei a meno che questi ultimi non subiscano uno stop e cedano il passo nella trasferta di domani a Foggia. Possibilità questa da non escludere affatto poiché i rossoneri faranno di tutto per aggiudicarsi la gara ed omaggiare così le tre vittime dell'incidente stradale di domenica scorsa. Il Cerignola dal suo canto intende proseguire la sua striscia positiva dopo la bella vittoria in casa contro il Sorrento della scorsa settimana. La squadra di Raffaele arriva alla gara di domani col vento in poppa. Il morale è alto, dice il tecnico Fantino. Siamo consci che è una partita da un buon indice di difficoltà. Insomma, un bel banco di prova a cui la squadra arriva bene.